La Sicilia è la regione più povera d'Italia, a dirlo sono i dati Istat contenuti nell'ultimo rapporto sul reddito e condizione di vita. Poco più della metà dei siciliani, quasi il 55%, presenta serie difficoltà economiche. La media nazionale del 28,9% davanti alla Sicilia, Campania e Calabria. Secondo l'Istituto di Statistica, l'indagine mostra che il 26% dei siciliani vive in condizione di deprivazione e il 40,1% è a rischio povertà. L'indagine su base nazionale è stata condotta su un campione di 19.633 famiglie e rileva alcuni indicatori su condizioni economiche, redditi netti e condizioni lavorative per mese, che rappresentano la base di partenza dell'Unione Europea per definire e monitorare gli obiettivi di politica sociale nell'ambito della strategia Europa 2020. I numeri Istat confermano le difficoltà dell'isola, che non riesce ad invertire la rotta di marcia, a causa pure di una classe politica litigiosa e senza alcuna concreta idea di sviluppo per il territorio. L'indagine mostra l'inadeguatezza di chi è chiamato a governare tante emergenze senza tuttavia offrire risposte. Quanto sta accadendo a Palazzo d'Orlean è emblematico. La Sicilia affonda, i partiti litigano sulle poltrone, mostrano i muscoli al presidente Crocetta, pronte ad imporre i loro nomi e minacciano di staccare la spina al governo. Tutto celato dietro le ben note frasi di circostanza, perché loro non fanno opposizione per interessi personali, ma per difendere il bene comune. Nessuno però è più tanto ingenuo da crederci.